benvenuti a questo tutorial quinto tutorial sulle gradatorie di circolo ed istituto per la terza fascia ata triennio 2024 2027 allora nel modello di presentazione della domanda dopo aver inseriti i profili di riferimento per esempio quello di assistente amministrativo di assistente tecnico di collaboratore scolastico e anche di operatore scolastico si devono andare a riempire i titoli di accesso e dunque inserire il titolo di accesso del diploma della secondaria di secondo grado inserirlo e la certificazione nel caso in cui si possegga del della certificazione per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale che abbiamo già visto come compilarla o come se già posseduta o come indicare l'accesso con riserva con il conseguimento della e dunque lo scioglimento della riserva con il conseguimento della certificazione di alfabetizzazione digitale entro il 30 di apri 2025 e una volta compilato questo anche si fa il la certificazione internazionale abbiamo detto e qui l'abbiamo già indicata è il modello di accesso alla gradatoria che può essere da modello a b c d e e g dopo aver indicato l'accesso andiamo a vedere i titoli culturali le certificazioni informatiche che si possono inserire in questo modello di presentazione della domanda per quanto riguarda il l'assistente amministrativo può anche indicare dunque dichiarare una laurea triennale una laurea breve oppure una laurea specialistica piuttosto che una magistrale una laurea di vecchio ordinamento che può essere inserita tranquillamente e se ne inserisce un solo titolo come titolo culturale aggiuntivo laurea ecco una laurea una qualsiasi laurea può essere inserita è indicata che da subito la votazione della laurea in decimi dopodiché dire dove è stata conseguita si inserisce il luogo università degli studi di messina e la data del conseguimento che si potrà tranquillamente inserire portando indietro nel tempo il inserendo così il titolo e questo titolo così viene inserito si può inserire pure allo stesso modo un attestato di qualifica professionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 68 qualificazioni rilasciate dunque dalle regioni e dalle province autonome di trent e bolzano si può anche inserire un pubblico concorso un'idoneità da un concorso per lo stesso profilo di appartenenza che è quello di assistente amministrativo o di impiegato di concetto vediamo che si può inserire un titolo se si è superato o per assistente amministrativo qualsiasi altro profilo di concetto si può inserire qui il titolo di riferimento come si può anche inserire un titolo di datilografia lo vediamo qui l'attestato di addestamento professionale alla datilografia va inserito in questa voce o anche una sola certificazione informatica digitale che sia distinta e separata dalla certificazione come potete vedere se si va inserire questo titolo se ne inserisce uno solo cliccando qui si fa si dà la certificazione però deve essere un titolo che deve essere diverso dalla certificazione internazionale che dà titolo di accesso e si inserisce anche il titolo di informatica questa operazione che è fatta per il profilo di assistente amministrativo va ripetuta per il profilo di assistente tecnico per il profilo di collaboratore scolastico dove per la verità le certificazioni culturali sono molto poche cioè sono o la certificazione informatica digitale che è una sola e vedete in questo caso deve comunque essere diverso dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione che da accesso ma potrebbe anche essere un altro tipo di qualifica ottenuta come i corsi socio assistenziali e socio assistenziali e socio sanitari rilasciati però dalle regioni tant'è vero che nella compilazione di questi titoli bisogna indicare quale dei due titoli si possiede e la data di conseguimento per esempio se si ha un qualifica ottenuta al termine di corsi sociosanituali sociosanituali si dà la data di conseguimento di questo titolo e si aggiunge dunque il titolo si aggiunge il titolo cioè si inserisce il titolo si inserisce il titolo e il titolo viene inserito in questo caso bisogna sottolineare che comunque si potrebbe aggiungere più di un titolo per esempio si può possedere anche l'altra qualifica quella di socio assistenziale e dunque inserirne due e in modo da ottenere due titoli piuttosto che uno e dunque si fa modifica e si ottengono due titoli dopodiché se voi provate non è che potete aggiungere altro non c'è proprio più altro da aggiungere il massimo è di due titoli che devono essere però distinti l'uno socio sanitario e l'altro socio assistenziale ecco questo per quanto riguarda e poi la certificazione digitale informatica digitale che si può inserire e la stessa cosa va può essere fatto con il profilo di operatore scolastico prima si deve inserire il titolo che un titolo di qualifica un attestato di qualifica professionale o un diploma di qualifica professionale conseguito nell'anno 2021 per esempio con votazione di 100 su 100 è presso l'istituto e con data di conseguimento dunque luglio 15 luglio 2021 ecco e poi anche la certificazione internazionale che va che può essere inserita se viene inserita viene inserita pieno titolo se invece ci riserviamo di dichiararla successivamente entro il 30 aprile del 2025 e daremo poi la modalità di accesso per esempio a noteremo che nell'inserimento di questa gradatoria di questo profilo profilo andremo a inserirci ci sarà stato un inserimento però questo inserimento sarà diciamo con attesa vedete come era per esempio e può verificarsi con certificazione internazionale mancante ecco perché se si inserisce il diploma di scuola secondaria secondario attinente al titolo specifico e vedete si inserisce la votazione la data di conseguimento e per la certificazione dell'alfabetizzazione digitale dichiariamo che con la conseguirà successivamente al fatto e la modalità diamo la modalità di accesso sempre a in modo tale che ecco si può inserire viene il ruolo di assistente tecnico viene diciamo inserita però ci sarà questo specifico ramo di di alfabetizzazione digitale da compilare successivamente ma si viene inserite a pieno titolo ecco queste sono diciamo un po le scelte che si possono fare riferite ai vari profili speriamo che questo tutorial di inserimento dei titoli di accesso ma anche dei titoli culturali di certificazione informatiche sia utile ai nostri telespettatori e seguiteci ancora per altri tutorial per le dirette che vi indicheranno passo passo come compilare questa domanda arrivederci